Questa è la storia di uomini, uniti da una grande passione. Gli animali che vivono in luoghi magici. I silenzi che fanno rumore. Abbiamo aspettato che facesse giorno, abbiamo fatto colazione tranquilli e ora si parte. Guardate che paradiso. Grazie alle montagne. Vodiamo di questi doni e con rispetto guadagniamo la vetta. Questa la dedichiamo a mio. 30 metri sopra l'upente e una lebra al cuccio. È una terra incontaminata, ricca di animali selvatici, e permette di fare una caccia vera. Questo è il cacciatore di montagna. E io sono Andrea Cavaglia. Caccia in montagna. Grazie. Grande giornata.